Però su tutti i cast e questa non la vinciamo bestemme o peggio di Satana Cioè che Satana viene sotto casa e mi chiede il numero di telefono Dio boh Ma che ce l'abbiamo nel girone ci andiamo a prendere di nuovo la nostra vendetta Italia-Cina Finalmente la nostra vendetta è stata fatta Giustizia si è fatta Mi sto caccando sotto Che roba signori Quarti di finale contro l'Inghilterra Andiamoci a prendere la nostra vendetta E andiamo Speriamo Semifinale Speriamo semifinale Mai che arriviamo in semifinale Mai eh